Ancora una frecciata tra il giudice Selvaggia Lucarelli e la super concorrente Sonia Bruganelli, cosa accade a Ballando con le stelle Durante la sua recente apparizione alla vita in diretta, condotta da Alberto Matano, Selvaggia Lucarelli non ha perso l'occasione di esprimere il suo punto di vista su Sonia Bruganelli, nota per essere stata fino a poco tempo fa una delle colonne portanti del programma Ballando con le stelle Le parole di Lucarelli non hanno lasciato spazio a interpretazioni ambigue, ha definito la Bruganelli una confusa manipolatrice, aggiungendo che questa sarebbe la 36esima versione che dà di sé Con un pizzico della sua consueta ironia tagliente, ha poi paragonato Millie Carlucci, storica conduttrice del programma, a Freud per la sua capacità di far scoprire agli altri lati nascosti di sé stessi Ballando con le stelle, cosa accadrà in puntata.Nel corso della stessa intervista, Selvaggia Lucarelli ha condiviso anche un aneddoto riguardante Millie Carlucci, svelando come le improvvisazioni e le uscite spontanee siano all'ordine del giorno durante le puntate di Ballando con le stelle Secondo Lucarelli, gli autori spesso non sono al corrente delle sue trovate sul momento e quando Carlucci ride in modo particolare è perché si trova in imbarazzo e cerca così di stemperare la tensione Questa rivelazione offre uno spaccato interessante sul funzionamento interno dello show e sulla dinamica tra i suoi protagonisti Il prossimo appuntamento con Ballando con le stelle vedrà ora uno spareggio molto atteso tra Selvaggia Lucarelli e il giornalista Alan Friedman Le dichiarazioni fatte da Lucarelli alla vita in diretta potrebbero accendere ulteriormente gli animi e rendere lo scontro ancora più acceso Nel suo intervento televisivo, oltre alle critiche dirette alla Brucanelli, Selvaggia Lucarelli ha anche lanciato un messaggio più generale rivolto a chi vive nel mondo dello spettacolo Ha invitato l'ex moglie di Paolo Bonolis a godersi il ruolo scelto nella commedia della vita senza doversi giustificare continuamente per ogni parola o azione davanti alle telecamere Questa riflessione solleva questioni importanti riguardo l'autenticità e il coraggio delle proprie scelte nel contesto mediatico contemporaneo L'intervento di Selvaggia Lucarelli alla vita in diretta si è rivelato ricco di spunti interessanti sia per i fan del programma sia per gli osservatori del panorama televisivo italiano Tra critiche pungenti e riflessioni profonde sul ruolo dei personaggi pubblici nella società moderna, resta chiaro che figure come quella della temuta giudice sono essenziali per mantenere vivo il dibattito culturale intorno al mondo dello spettacolo Grazie a tutti